No, io ho sentito qualche volta la zia di Eitan che aveva incontrato in quei giorni e forse un altro parente, non solo per scritto, ma non direttamente. L'abbiamo lasciato come era giusto, comunque nel loro dolore perché c'è poco da dirsi. La comunità di Stresa? La comunità di Stresa si è stretta tanto lo scorso anno, perché la funivia era la funivia di noi tutti, dove siamo sempre saliti, dove facevamo salire i nostri figli e ancora oggi si stringe a braccia questa comunità di persone devastate, questa cipura. C'è un'idea di costruire la funivia? Sì, sì, non è credo oggi il momento di parlarne, perché oggi seguiamo il lato umano, ma siamo al lavoro, siamo ottimisti. di ridare al mottarone la sua funivia.